Scusate, figliole, figliole, imbecille, vedi, retino, sento un po' di puzza, non mi ricordo più come, e quindi, puzzate, puzzate, ma come puzziamo, ma quando, ma se siamo profumate, siamo delle bambole meravigliose, dicono tutti che puzzate. Allora, Rudy, porta via l'argenteria, perché è fondamentale che qui non ci sia nulla d'argento, retino, te l'avevo detto prima di tornare, portala via, falla sparire. Sei di buon umore, mamma. Sì, no, ma ho detto lui, ti fa... ma per cominciare ho un regalo per voi, soprattutto per la mia preferita, la mia prediletta, Sabrina. Grazie, mamma, grazie.